Assolutamente sì, partiamo col farvi vedere tutto quello che c'era all'interno della box che mi ha regalato Paolino e dentro c'erano sia i regali di Natale che il regalo per il nostro anniversario. Partiamo con quelli di Natale che sono quelli un pochino più piccolini per poi arrivare al più speciale. Allora, come prima cosa ho trovato queste calze qui di Calzedonia, poi un paio di Adidas, in particolare le Samba e sono super contenta perché Paolino è riuscito a trovarle proprio del mio numero. Come potete vedere io al 34 l'è difficilissimo trovare scarpe della mia taglia che non siano Lally Kelly e niente, le amo, sono veramente stupende. Un altro regalo che mi è piaciuto veramente tantissimo, super azzeccato, è questo Funko Pop gigante con all'interno Sally e Jack Skeletron che sono i protagonisti di The Nightmare Before Christmas che è il film preferito di Paolino e uno dei miei preferiti. Tra l'altro si tratta di una limited edition che è stata fatta per i 25 anni da quando è uscito il film. Poi ho ricevuto questo pigiama qui che tra l'altro gli ho regalato io uguale all'interno della mia box che ho fatto per lui e questo maglioncino super in palette. Ed infine, passando al regalo invece per l'anniversario, mi ha regalato una cosa pazzesca, vi giuro non potevo credere ai miei occhi quando l'ho aperto, ovvero un anello con un sacco di diamantini. Eccolo qui, è veramente meraviglioso, super fine ed elegante, veramente non ci potevo credere quando l'ho visto. Ed è un regalo super speciale per me perché dovete sapere che il primo regalo che mi ha fatto è stato questo anello qui di Pandora e adesso, dopo tre anni da questo regalo, è arrivato questo anello che è veramente stupendo e per me ha un significato importantissimo. Sono veramente così felice e grata di avere una persona come lui al mio fianco. Passando invece velocemente agli altri regali che ho ricevuto, vi faccio vedere quello che mi hanno regalato i miei genitori. Si tratta di una cintura di Gucci nera, super elegante, che non è per nulla pacchiana, con tutte leggi impresse qui e ha l'item argentato come tutti i gioielli che indosso. Poco prima di Natale ho detto che mi mancavano un po' di calzi su a Milano, me ne sono arrivate tantissime, tra cui queste super carine natalizie. Poi ho ricevuto dei soldi da parte dei parenti, dei trucchi e questa collana di pigiotteria veramente super carina, da mettere magari con un vestito nero e questo cerchietto da parte di mamma che sa che sono entrata in fissa totale con i cerchietti. Veramente bellissimo. Fatemi sapere se vi sono piaciuti, io vi aspetto assolutissimamente su IG.